Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, continuiamo questo giro in Malesia. In questo momento mi trovo in un grandissimo centro commerciale dedicato alle apparecchiature di alta tecnologia. Questo grandissimo store offre veramente di tutto, al suo interno vi sono rappresentati tutti i brand commerciali più famosi e quindi tutte le più grandi novità del settore dell'innovazione e della tecnologia. Qui abbiamo Samsung, abbiamo dei prodotti veramente innovativi, qui cercano di venderti qualsiasi cosa, qui il motto è contrattare il più possibile, tutti i prezzi stranamente qui sono esposti, in genere in Malesia i prezzi non sono mai esposti, però è obbligo contrattare. Se siete dei bravi contrattatori riuscirete ad abbassare il prezzo non della metà ma della metà della metà e questo è fondamentale perché noi amanti delle tecnologie amiamo acquistare risparmiando. Cioè il nostro vero nirvana non è avere l'oggetto dell'ultima tecnologia ma riuscire a pagarlo veramente poco. Ecco, in questa breve carrellata io credo di avervi mostrato già tantissimo, qui abbiamo lo store della Sony, qui c'è Acer, qui abbiamo Acer, lì avanti continua abbiamo Asus, abbiamo tutti i più grandi brand, qui stranamente abbiamo anche i urologi che non sono un prodotto che hanno qualcosa a che fare con la tecnologia mobile, però ci sono anche questi. il centro commerciale si chiama Plaza Low Yat, così se siete da queste parti potete chiedere a qualcuno come arrivarci. Comunque il posto è in centro, arrivati in centro, Kuala Lumpur non è una città grandissima se amate camminare, arrivati in centro da qualsiasi punto sono al massimo 10 minuti a piedi. Il mio giro potrebbe continuare lungo perché questo posto è un multipiano. abbiamo, si sviluppa in diversi piani e salendo si trovano altre innovazioni, altre tecnologie, altri brand. Io non vi porterò a passeggiare a livello superiore perché sennò questo video qui non finirà mai più, tuttavia quello che mi avevo prefissato di farvi vedere, ve l'ho fatto vedere, ho raggiunto il mio scopo. Qua continua, ci sono anche rivenditori di brand inferiori, ecco questi brand inferiori si possono acquistare a prezzo veramente d'eccezione. Eccoci qua, qui abbiamo, mi sembra sono i Garmin che è un brand famosissimo per quanto riguarda i sistemi di navigazione. Ok ragazzi, questo breve giro finisce qua, ci sentiamo alla prossima.